Offerta di transazione di Veneto Banca resa efficace dalla rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della condizione sospensiva prevista dal regolamento. Vale a dire che entro 5 giorni lavorativi da oggi l'Istituto di Credito pagherà i 54.374 azionisti che hanno aderito, il 72,6% del totale, all'offerta a un ristoro economico complessivo di 248 milioni e mezzo di euro. Ufficializzata inoltre l'istituzione del fondo da 30 milioni di euro a sostegno degli azionisti in condizioni disagiate. A conclusione dell'offerta pubblica di transazione l'amministratore delegato di Veneto Banca Cristiano Carrus e quello di Popolare di Vicenza Fabrizio Viola hanno incontrato nel pomeriggio la stampa. La Popolare Berica pagherà il 19 aprile 192 milioni e 800 mila euro dopo l'adesione del 71,9% degli azionisti. Ci sono ancora diversi scogli però essere riusciti a portare a termine un'operazione complessa, unica nel panorama bancario italiano certamente è non solo un motivo di soddisfazione ma anche un segnale forte che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. La trattativa per la ricapitalizzazione precauzionale di Popolare di Vicenza e Veneto Banca vede tutte e due le banche impegnate a lavorare in modo unitario, ha detto Viola. L'interlocuzione con le autorità europee è seria e costruttiva. Sulla base delle esperienze di questi primi giorni c'è un grandissimo impegno da parte di tutte le autorità, un approccio costruttivo e quindi sulla base di queste condizioni che stiamo toccando con mano in questi giorni l'auspicio evidentemente che i tempi siano veloci. Quanto all'avvio dell'azione di responsabilità sulla gestione passata di Veneto Banca, ha aggiunto Carrus, i tempi sono stretti, oltre l'estate sicuramente no, sarà molto prima, sicuramente i tempi sono stretti e brevi. Rispetto agli esuberi infine possibili in Veneto Banca e Popolare di Vicenza l'obiettivo non è fare macelleria sociale. Nessuno gode a mandare sulla strada la gente, ha detto Viola, ma dobbiamo essere consapevoli che la situazione è molto molto grave.